Al via La Potatura dei Lecci in via Guadagnoli, l'intervento ha preso avvio mercoledì 18 ottobre. C'era assolutamente necessità, è un intervento che va in continuità rispetto all'intervento di anno scorso su Viale Michelangelo, quindi sarà un intervento piuttosto importante, andremo a sfrondare in maniera piuttosto pesante anche perché ne hanno bisogno e poi andiamo incontro alla stagione invernale dove ci sarà più buio e poi anche per evitare che ci si annidino gli storni che sono purtroppo uno dei tanti problemi che hanno i residenti e per il quale ci hanno richiesto anche di intervenire. È un intervento veramente importante perché sono circa una trentina di alberi, successivamente interverremo anche sui marciapiedi nella parte finale di via Guadagnoli che sono malmessi a causa del sollevamento dovuto alle radici degli alberi stessi. Quindi in una settimana contiamo di finire il lavoro, ci sarà qualche disagio per i parcheggi perché dovremo vietare la sosta in alcune aree, però sarà un bel risultato alla fine. Ovviamente scatteranno delle modifiche alla sosta, in particolare il divieto 24 ore su 24 negli stali di entrambi i lati della carreggiata volta per volta lambiti dalle fasi di esecuzione dei lavori. Terminata la potatura è previsto un intervento di manutenzione del marciapiede adiacente alle siepi nel tratto di via Guadagnoli che si trova oltre l'incrocio con via Crispi.